Cari amici di Miglionavventura, in questo video torniamo a parlare di avventure testuali e di Commodore 64. Tanti anni fa avevo fatto una mia solita diretta che tempo fa facevo sul dominio di Meandro e questo video è una sorta di appello per chi capitasse adesso a vedere questo video, visto che un po' di iscritti ci sono, perché apparentemente di questa avventura testuale che tra poco vedremo di che si tratta non esiste la soluzione, molti, molto pochi sono riusciti a risolverla, tanto è difficile. Un tempo vi dicevo facevo queste dirette col mio tablet, siamo nel 2016, 18 marzo 2016, facevo queste dirette in cui portavo delle avventure testuali e le giocavo per un'oretta e questi vecchi video sono ancora sul canale ed è capitato scendendo nei vari commenti, ci sono dei commenti di otto anni fa e c'è un commento di un'ora fa. C'è iurif74 che chiede c'è la soluzione da qualche parte? La leggenda metropolitana dice che nessuno l'abbia mai finito. Io rispondo potresti chiedere all'autore e gli ho messo il link al sito dell'autore che apparentemente è ancora attivo perché ci sono delle date molto recenti. Non sono riuscito a trovare anche dopo otto anni la soluzione cercando, c'è comunque qualcuno che 18 anni fa chiedeva di questa avventura per Commodore 64 un gioco folle apparentemente senza senso, ad ogni comando si otteneva una risposta logica ma spesso assurda. Nonostante gli sforzi, le notti passate fuori di testa, alla fine desistei, desistetti e chiede se qualcuno è riuscito nell'impresa. Lady Death, sempre 18 anni fa, risponde me la ricordo, però anche lei non lo ha mai finito. Vai dal macellaio e compra la carne, la carne serviva per i cani che erano di guardia, però arrivavo davanti alle due strade dietro al trono, insomma ci svela un po' di retroscena, però insomma i cani la sbranavano lo stesso e non c'è altro. Quindi 18 anni fa qualcuno ha tentato di chiedere, era Luana, però niente, non c'è stata risposta. Un po' più recente questo commento del 2011, un po' più recente per modo di dire, e qui c'è Ettore85 che sta giocando a questo gioco e sta impazzendo, c'è un formichiere che non lo fa andare nella stanza di sotto. Qualcuno può darmi una mano e Strongboy dice, puoi cortesemente dirmi su che cassetta si trova e dice gruppo D. Comunque adesso vediamo dove si trova, vi metto anche il link qui sotto se volete cimentarvi. Qui è sempre Ettore85 che su Ready64, la stessa domanda, qualche giorno dopo, sto giocando, sto impazzendo, il formichiere non mi fa andare avanti, su Ready64 nessuna risposta. Quindi questo è quello che ho trovato adesso velocemente, ma penso che ci siano altre richieste in giro per internet. Sempre su Ready64, oltre al gioco, il primo luglio 2024, quindi un paio di mesi fa, si riparla del gioco che è qui, Meandro. Ecco, dice, lo cita dicendo che solo il Regno della Morte, un Seouk realizzato da Gaffo, a quanto pare è l'unico gioco originale che c'era sulla rivista Commodisc, oltre al dominio di Meandro. Quindi il dominio di Meandro era comparso sulla rivista Commodisc. Ora, chi ha creato questo gioco? Beh, si chiama, il sito, come vi dicevo, è stato aggiornato il 5 settembre 2024, quindi sempre aggiornato, è stato creato da Michele Giordano e sul suo sito, che trovate linkato qui sotto, trovate un po' tutto quello che tutte le sue attività, tutte le sue passioni. Ed è il 52, è stato insegnante in ambito scientifico, ma si è anche laureato in lettere moderne. E ha anche scritto due romanzi, uno nel 2011 e l'altro nel 2012. Nel 1986 invece aveva creato il Regno di Meandro, il dominio di Meandro. Quindi un autore eclettico che si occupa sul suo sito soprattutto di parole. Ora, ha anche un canale YouTube, però un solo video, 5 iscritti. Io sono iscritto da almeno 8 anni. L'unico video che compare è un breve gameplay non commentato e non completo del dominio di Meandro. Poteva almeno giocarcelo tutto, così saremmo stati contenti. Non ho messo mi piace, ma lo mettiamo subito. E quindi qua non c'è nessun elemento che ci possa aiutare. Anche Zombie Gamer 80, che ogni tanto consigliamo nel nostro TG1001, ha giocato il dominio di Meandro nel 2018. E anche lui ha giocato fino a un certo punto e poi ha perso, quindi non è andato avanti. E l'altra sorgente, il mio gameplay di un'oretta, 50 minuti, ma anch'io non sono andato molto oltre. Qui si vede una sorta di mappa che probabilmente poteva aiutare, ma non è stato di molto aiuto a quanto pare. Sempre una mappa che era presente, che è presente sul sito di Michele Giordano. Ecco, qui si diceva opera prima e ultima di Michele Giordano. In realtà di avventure testuali non ne ho trovate altre, non ho cercato tantissimo, ma ho trovato solo questa avventura testuale e poi i romanzi del 2011 e 2012. E quindi se qualcuno è riuscito a finire questa avventura, ci piacerebbe tanto saperlo, perché vorremmo il gameplay completo per arrivare fino in fondo, perché da soli evidentemente dopo 40 anni non ci siamo arrivati. Questa è la pagina su Ready64, da cui potete scaricare il gioco. Commodisc numero 2, maggio 86, avventura testuale. Di voti non ce ne sono, però c'è Ade, che dice, ricordo molto poco, ci ho giocato molte volte, ma non andavo oltre i primi ostacoli. Era estremamente d'atmosfera, la documentazione mi aveva stimolato non poco a cercare di superare le barriere dell'età per cercare di andare avanti. E c'è anche su Internet Archive, se non volete scaricarvi il file di 64 per giocarlo su un emulatore, potete andare qui su Internet Archive, dove dovrebbe esserci il dominio di meandro da giocare. Qui c'è il nostro autore, come abbiamo visto prima. Interessante l'esperimento scripta, in cui ha raccolto tanti testi della letteratura italiana e permette, grazie al suo sito, di fare ricerche su questi testi. Per esempio, si possono fare ricerche su parole che compaiono in questi testi. Ci dice, per esempio, che nel Furioso di Ariosto la parola innamorato non compare mai, mentre nell'innamorato di Boiardo innamorato è scritto una sola volta, mentre Furioso si trova 51 volte. Quindi possiamo, per esempio, andare qui sul sito dove c'è scritto le parole e le espressioni, possiamo scrivere Commodore, interroghiamo qualsiasi autore, qualsiasi genere, interroghiamo il database e troviamo ben 13 opere che contengono la parola Commodore. Per esempio, qui trovo, mi pare, Fabio Volo, la strada verso casa e la strada verso casa cerchiamo la parola Commodore del 2013 e la frase dove c'è Commodore è questo Me lo ricordo il Commodore 64 Il papà ci aveva puntini puntini quindi potete andare a vedere questo romanzo e troverete il Commodore 64 Infine ecco, ci dice qui il nostro Giordano, l'autore del Dominio di Meandro che qui ci parla del Commodore 64 in questa pagina riporta le istruzioni per l'uso ci dice che il Dominio di Meandro è un gigantesco insieme di luoghi comunicanti all'interno dei quali il giocatore può muoversi liberamente e bisogna, c'è un gran segreto che bisogna scoprire e poi ci sono tutte le istruzioni c'è una discreta libertà nelle espressioni dovete mettere gli articoli come ho mostrato nel mio gameplay se non li mettete la frase non viene capita e arrivando in fondo qui 30 anni dopo ci dice e ormai sono passati 38 anni benché lo ritenessi quasi impossibile ci dice Giordano il Dominio non è tramontato del tutto il grande segreto incuriosisce ancora qualcuno di recente ho trovato due messaggi da parte di persone sconosciute che mi hanno rivelato che a suo tempo il gioco è stato molto apprezzato e continua tuttora a esercitare il suo fascino per il suo carattere atipico insieme letterario e scansonato ebbene penso che se ho speso tutta la fatica che mi è costato solo per ricevere 30 anni dopo questi messaggi non devo considerarla fatica sprecata ebbene speriamo che qualcuno ci fornisca il walkthrough completo perché a quanto pare pochi ci sono riusciti noi no e quindi vorremmo avere un aiutino l'inizio dell'avventura è questo come potete vedere in tutti i gameplay si inizia di solito scrivendo guarda la stanza bisogna mettere gli articoli e qui siamo seduti davanti al computer acceso riconosco il luogo e gli oggetti presenti eppure ho la singolare sensazione che la stanza non sia quella di sempre guardiamo la stanza ci accorgiamo che dove c'era prima la porta ora c'è la nuda parete e che la finestra si è mutata in un grande specchio quadrato quindi se scriviamo guarda lo specchio ho guardato ben bene e ora possiamo scrivere per esempio tocca lo specchio non ho voglia esamina lo specchio ho guardato ben bene e ora alla fine entra nello specchio pensavo che scrivendo tocca lo specchio dicesse che era morbido e non so devo aver sbagliato verbo non ricordo bene e ora entra nello specchio ecco vedete dice la superficie dello specchio non è rigida come ci si aspetterebbe bensì morbida e cedevole si deforma di smisura permettendomi di passare dalla parte opposta e siamo in una piccola stanza vuota c'è una lapida ovale sulla porta che conduce a nord eccetera eccetera quindi se riuscite a risolvere questa avventura scoprendo il grande segreto fatecelo sapere qui sotto nei commenti a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e non c'è a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti Milleuna avventura ci porta nel passato con storie di byte e pixel che non abbiamo autenticato senza dubbio ciò che amo Milleuna avventura il nostro mondo è Milleuna avventura Grazie a tutti.